Ciao a tutti, benvenuti e bentornati al mio canale. Oggi andiamo a vedere nello specifico tutti i vari prodotti per le ciglia di Unique. Questo perché è da circa un anno e un mese che li sto utilizzando costantemente e devo dire che mi sono trovata davvero, mi sto trovando davvero tuttora molto molto bene perché sono dei prodotti, non sono dei semplici mascara ma hanno veramente all'interno degli ingredienti che sono dei veri e propri trattamenti per le nostre ciglia. Quindi niente, iniziamo subito. Allora, prima cosa vi vado a spiegare, ho iniziato come vi ho detto un anno e poco più fa con il siero. L'utilizzo appunto del siero. Questo è un siero che va applicato una volta al giorno, anche due, finché non raggiungete il vostro risultato perfetto. Ecco, le vostre ciglia lunghe perfette. Questo è un siero, come potete vedere, in colore. È un forte ristrutturante, ha tantissima cheratina e va sicuramente ad allungare le nostre ciglia, ad allungare anche la nostra vita della nostra ciglia e a renderle più, ad avere proprio una struttura. Quindi fa in modo che col passare del tempo le nostre ciglia non cadano. E devo dire che io non ho ancora raggiunto perché, diciamo, l'allunghezza delle ciglia è ideale perché le ciglia veramente non bastano mai, le ciglia lunghe intendo non bastano mai, quindi continuerò ad utilizzare, infatti quanto su questo match ce l'ho da un anno e più, quindi è un prodotto veramente che dura tantissimo. E devo dire che sta assolutamente funzionando, anche perché va anche a, come si dice, a dare, ad allungare la vita della nostra ciglia, no? Le rende anche un po' più spesse, ecco. Quindi super consigliate, assolutamente. Il secondo prodotto che utilizzo spesso è il primer ciglia. Questo è il primer ciglia di Meunique. Lo sto usando insieme, appunto, al mascara e al siero. Fate conto che il siero lo applico una volta al giorno, prima di andare a dormire, qualche 40 minuti prima, circa, in modo che si asciughi e poi siamo a posto. Si applica da metà ciglia in su, questo siero qui, poi si asciuga e il giorno dopo, appunto, avrete proprio la sensazione delle ciglia un po' più, come si dice, più folte, più forti. Poi, prima di mettere il mascara, vado sempre ad utilizzare questo primer. Adesso vi faccio vedere. Il primer, questo qui, serve semplicemente per andare a creare spessore e, come potete vedere, dallo scovolino, ok, che ha, appunto, una curva, va a dare lunghezza e, soprattutto, volume. È un prodotto adatto a tutti i tipi di ciglia ed è un vero e proprio trattamento per le nostre ciglia perché è all'interno della vitamina E. Questo ingrediente farà in modo che le nostre ciglia saranno super morbide e, soprattutto, quando avrete da struccarvi. È veramente un prodotto che non riesco più a fare a meno. E niente. Mi chiedete spesso il motivo per il quale è bianco, no? Allora, il primer bianco, io tendo, appunto, a preferirlo perché, una volta applicato, va ad esaltare ancora di più il colore del vostro mascara, che sia marrone, che sia nero, qualunque colore abbia, no? va ad esaltare completamente, provare per credere. E quindi, direi che la combinazione perfetta per delle ciglia super wow è, appunto, il siero, il primer e poi, ovviamente, il mascara. Partiamo con il mascara epic, che è quello classico, che troviamo in tre versioni e non solo due. La versione classica nera, waterproof nera, e la versione marrone, che io però non utilizzo, però, ovviamente, c'è anche quella. Allora, quello waterproof l'ho usato tutta l'estate scorsa e devo dirvi che è bellissimo, fa delle ciglia super... un effetto proprio ciglia finte e la cosa bella è che io mi sono fatta il bagno sia in spiaggia, quindi al mare, sia in piscina e vi posso assicurare che il prodotto, appena l'ho applicato, è rimasto di tutto il giorno, quindi è veramente ottimo. E vi faccio vedere che ha uno scovolino veramente semplicissimo, quindi facilissimo da applicare. La particolarità di questo mascara qui, epic, vedete, ha uno scovolino molto semplice da applicare, è che ha all'interno ingredienti molto ricercati che creano, appunto, che danno alla nostra ciglia tutto ciò di cui è bisogno, per esempio l'olio di argan, la biotina, la vitamina C, poi ci sono veramente tantissimi ingredienti, anche l'acido di anuronico, tutti ingredienti che vanno a rendere le nostre ciglia ancora più robuste e più forti. E fate conto che va ad aumentare fino al 244%, come una sola passata, il volume delle nostre ciglia. È veramente, veramente pazzesco. Io ve lo consiglio se avete, appunto, delle ciglia già super idratate, super presenti, quindi ne avete tante, creerà proprio un effetto assurdo, effetto, appunto, ciglia finte. Soprattutto se volete non rinunciare alle ciglia durante, appunto, la spiaggia e il mare, ovviamente anche in piscina, quindi durante, appunto, l'estate. Un'altra mascara super, super importante è un mascara che è appena uscito, in famiglia Leunique, che è il mascara Twisted. Questa è un mascara per chi, secondo me, vuole un effetto ciglia al ventaglio, quindi molto ricercato. Ha due scovolini, adesso vi faccio vedere, uno piccolino, uno piccolino, che va a definire le nostre ciglia, a prendere anche quelle più nascoste, queste qua piccoline, senza sporcarvi, è veramente pazzesco. E ovviamente, sempre all'interno dello stesso, basta che aprivate, iniziate di aprire qua sopra, per aprire qua sotto, ha questo scovolino qua, un po' più ciotto, che va proprio a dare volume e lunghezza, quindi andare a creare diversi look. Questa è un mascara molto versatile, quindi in base alla vostra esigenza, potete abbinarli tutti e due, oppure utilizzare solo uno alla volta, oppure solo uno durante il giorno, dipende un po' dall'effetto che appunto volete, nelle vostre, volete dare alle vostre ciglia. La cosa importante che vi devo assolutamente dire, è che è anche questo un trattamento per le nostre ciglia, perché contiene ovviamente, degli ingredienti molto ricercati, come l'olio d'argan, che va a lasciare le vostre ciglia sempre morbide, la cheratina, che va a raddoppiare lo spessore della nostra ciglia, e la biotina, che va ad allungare la vita delle nostre ciglia, quindi è un vero e proprio, come ho detto prima, trattamento per le nostre ciglia. Poi, per ultimo, vi parlo, ma non per importanza, perché è il mio preferito, è veramente stata una scoperta, utilizzare il mascara 4D, il mascara 4D è molto, molto particolare, perché ha uno scoporino bifacciale, adesso ve lo faccio vedere. Praticamente, questo è nuovo, mi è arrivato qualche giorno fa, da una parte va ad allungare, e dall'altra invece va a dare volume, infatti, quando lo applichiamo, adesso lo applichiamo insieme, bisogna appunto, proprio girare lo scoporino, mentre si va su, per dare questo effetto, ciglia finte, pazzesca, alle nostre ciglia. Cosa ha all'interno? la vitamina E, e la crusca di viso, che va appunto a lasciare, le nostre ciglia super morbide, per tutto il giorno. e la particolarità di questo mascara, è che all'interno delle fibre, che vanno ad incastrarsi, mentre applicate, quindi voi non vi renderete proprio conto, alle nostre ciglia, e quindi, dando proprio questo super volume, questo effetto ciglia finte, come dico appunto sempre. Questo diciamo è un mascara, per chi vuole un effetto, un po' più seducente, uno sguardo un po' più, diciamo un po' più seducente, in modo da utilizzare, di solito per l'aperitivo, secondo me, poi ovviamente, si può utilizzare anche tutti i giorni, anche per andare a scuola, piuttosto che andare all'università, è veramente anche questo un prodotto, in base alla vostra esigenza, appunto di ciglia. Io amo l'effetto che fa sulle mie, e lo applico praticamente sempre. Adesso andiamo a provarlo insieme, nella scelta appunto tra tutti questi mascara, utilizzo questo qui. Prima cosa vado ad utilizzare il primer, però questo è per lasciare i nostri ciglia ancora più morbide. Anzi, non vi ho detto una cosa, praticamente per una settimana, sono andata in diretta, sulla mia pagina Facebook, alla Napete Makeup, se vi va seguitemi lì, praticamente ho applicato il mascara solamente da questo lato delle ciglia, no? Perché mi era un periodo in cui truccavo solo metà viso per far vedere effettivamente il prima e il dopo, no? Le differenze. E mi sono accorta, dopo circa sette, otto giorni, che applicando comunque sempre il mascara, anche se è un mascara, le ciglia si sono allungate tantissimo, si sono veramente come volume assurdo, non so spiegarvi, ma quando dico che sono veramente dei veri e propri trattamenti per le nostre ciglia, dico che dato che non hanno all'interno degli ingredienti che io chiamo schifezza, scusate, ormai mi conoscete che non riesco a fare due cose contemporaneamente, dato che appunto non hanno all'interno l'alco, nessun ingrediente, nessuna schifezza, come dico sempre, vanno, cioè, più lo applicate, più avrete questo effetto, queste ciglia super wow, queste ciglia ancora più robuste e forte, quindi, per quello dico sempre che è un vero e proprio trattamento per le nostre ciglia, vedete che sto facendo, praticamente zig zag e tiro su girando appunto lo scovolino, questo è il mascara 4D di effetto ciglia finte, perché cosa succede? che le, come si dice, guardate un po' la differenza, solo così, è veramente assurdo, perché cosa succede? praticamente, queste fibre a forma di y, sono fibre di nylon, si incastrano, si agganciano alle nostre ciglia e danno appunto questo effetto super wow, io ovviamente ho finito questo specchietto perché se guardiamo verso il basso evitiamo appunto di sporcarci, poi ovviamente ci sono le eccezioni come me che io mi sporco a prescindere perché non riesco a parlare mentre vi trucco senza appunto sporcarmi, ma questo ormai è un dato di fatto ormai lo sapete e guardate l'effetto che dà solo la prima passata è veramente bellissimo vado a fare la seconda utilizzando prendendo ovviamente dall'altro prodotto tolgo un po' l'eccesso e vado a fare la seconda potete anche aspettare che si asciughi un po' oppure applicare appunto direttamente così vi assicuro che l'utilizzo costante di questi prodotti vi renderà le ciglia grazie appunto agli ingredienti che hanno all'interno che sono molto ricercati renderà le ciglia super wow avete delle ciglia molto molto presenti ok faccio lo stesso all'altra parte direi che wow io vi consiglio sempre adesso io l'ho aperto senza pensarci in realtà per far sì che il prodotto venga ancora meglio cioè il risultato sia perfetto potete tranquillamente aprire che adesso ho il prodotto il mascara in questo caso un giorno prima e utilizzarlo il giorno dopo in modo che anche la presenza dell'aria che va all'interno aiuti il prodotto ad essere più più facile da utilizzare invece io ho praticamente applicato il mascara 4D senza appunto aprirlo prima perché mi è arrivato qualche settimana fa ma come utilizzo in base diciamo in base al mio umore utilizzo il mascara in questo periodo ho utilizzato di più questi due poi al mare ovviamente il waterproof quindi il 4D quando mi è arrivato ho detto aspettiamo un po' che utilizzo anche gli altri per evitare che magari poi venga sprecato anche perché ogni prodotto ha una scadenza personale voi quando avrete i vari mascara avrete all'interno della scatoletta il linci e il foglietto con il suo scritto come applicarlo e ovviamente la durata del del mascara una volta aperto e trovate tutto sul link in descrizione che vi lascio potete anche cliccare sulla scheda informativa per sapere nel dettaglio gli ingredienti che ha all'interno è veramente tutto fatto alla luce del sole perché come avevo detto Unique questa azienda nella quale sto collaborando ormai da più di un anno è veramente leale e sincera e la leader proprio sulle ciglia quindi se state cercando se siete stupidi di utilizzare mascara che col passare del tempo vi rovinano le ciglia sentite che sono durissime nonostante comunque magari vi da anche l'effetto che desiderate pensate però che dovete utilizzare avere queste ciglia per un po' di tempo quindi evitare appunto di parlerle vi assicuro che questi mascara una volta approvati assolutamente non ve ne pentirete è veramente la salvetta sono veramente dei trattamenti io vado semplicemente ad attutare anche la seconda passata poi ovviamente potete anche combinarli tra di loro se volete ancora si via ancora più wow però vedete che è già così direi che il risultato si vede ecco certo il formulato appunto è un prodotto stratificabile quindi potete passare tutte le volte che volete ecco io come sempre per questo video ho finito e vi invito a farmi sapere se avete intenzione di provarli se li avete già provati come vi siete trovati e niente io come sempre vi ringrazio iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati sui prossimi video e noi ci vediamo sul prossimo ciao a tutti no no